Buongiorno a tutti e bentornati su Sciva Produzioni. Da oggi nelle sale potete e dovete andare a vedere L'Emb di Valdimar Johansson che ho visto in anteprima all'ultima festa del cinema di Roma a ottobre e con il buon Lorenzo Pietroletti della Scimmia Pensa ho avuto l'occasione di fare quattro chiacchiere con il regista. L'Emb è la storia di una coppia di contadini, Maria e Ingvar, che dopo aver perso una figlia piccola adottano uno strano essere nato da una delle loro pecore. Un ibrido mezzo bambino e mezzo agnello che i due cresceranno come una figlia, Ada. L'arrivo di Petur, fratello di Ingvar, porterà scompiglio in casa tra molestie e verità non richieste. Un horror? Un drama? Una tragedia greca? Chi lo sa, ma anche chi se ne frega. Uno dei due produttori esecutivi però è Belatar, non so se mi spiego, e i diritti internazionali li ha la A24, non so se mi spiego, mentre in Italia è distribuito da Wanted Cinema, non so se mi spiego. In LEM ogni certezza crolla e dopo il dolore non c'è altro che provare ad aggrapparsi a una qualsiasi cosa pur di andare avanti, persino sottrarre alla natura, quella stessa natura, che aveva portato Maria Ingvar al peggior lutto che si può immaginare, quello di un figlio. Dunque, normale considerare quello strambo e tenere serino come segno del destino per colmare quel vuoto. Come capiamo fin dall'inizio, però, con quelle meravigliose riprese notturne della stalla delle pecore, c'è un qualcosa di sovrannaturale che ha dato vita ad Ada, il che non fa presagire nulla di nuovo. Quando è il naturale ad omare il sovrannaturale ci si sente ancora più piccoli e indifesi, come testimonia il meraviglioso finale. Ma non voglio anticiparvi altro, vi lascio all'intervista con il regista, e mi raccomando, andate a vedere il film se potete. Se non supportiamo queste uscite saremo perennemente invasi da film di merda. Bella rega che il cinema sia con voi. Ma prima dell'intervista vi ricordo che ieri è uscita una nuova puntata del podcast. Quali sono i miei film preferiti? Una domanda che mi avete fatto diecimila volte. Beh, è ora di rispondere. Per scoprire il primo di una lunga serie di film, andate al link di Spotify in descrizione. Quello che vi propongo è un viaggio nella storia alternativa del cinema. Ma ora, buona visione. Lamb mi ha ricordato un po' Littelotic di Svankmeyer. Volevo quindi chiederti se ti avesse ispirato in qualche modo, o comunque da dove nasce l'idea di questo film che unisce molti elementi a partire dalla tragedia greca fino ad arrivare all'horror e al disturbi in drama. Non ho visto questo film, ma ho cercato di vedere l'intervista molto lunga. Perché ho avuto questo commento prima. Anche qualcuno che mi ha leggato il script, mi ha raccontato questo film. Quindi, mi piace di vedere l'intervista. Ma per me, non è un'horror. È un film più dramma, o che è un film che si tratta con la perdita, la risposta, la risposta, la risposta, la risposta. La risposta è un film che si tratta con la risposta, la risposta, la risposta, la risposta. Questo non è basato su un'unica storia o qualcosa di più. Non è basato su un'unica storia o qualcosa di così, ma probabilmente si è stato inspirato da molte cose. Penso che non sono tutti questi elementi che hanno un'influenza, anche se non ho visto il film, ma la storia. Ci sono molte cose che abbiamo usato come un'influenza per il nostro film. In Lamb c'è una famiglia particolare, isolata e bucolica, che trova in Petur, cittadino di mondo, un elemento di rottura che dà dettami più o meno rivedibili sulla famiglia. Ti chiedo quindi, cos'è per te la famiglia? Sì, credo che la famiglia è un tipo di gruppo di persone che stanno insieme e sono disposti di fare cose e di care per gli altri. e non è necessario di essere legato. È un tema di accettamento e come... Non ho capito di capire come rispondere. Ma è un tema di persone con cui ti piace guardare, che ti chiedono molto, e che ti vogliono spendere un po' di tempo. e che ti chiedono. E che ti chiedono. E sai che non importa cosa succede, sono sempre qui per te. Però talvolta l'accettazione in famiglia è forzata. C'è un po' di tempo. È un po' di tempo. È un po' di tempo. C'è un po' di tempo, che non sono legato. Ho molti. E sai che... C'è un po' di tempo che... le persone possono essere diverse, ma comunque... Sì, credo che sono successo. Come mai questa differenza di interazione nelle scene in cui compaiono esseri umani, dove c'è una totale assenza di comunicazione, e invece quelle con gli animali, che invece dimostrano una forte potenza comunicativa? C'è un po' di tempo che vogliamo avere anche un punto di vista dei animali, perché è più interessante vedere il mondo dal loro punto di vista. E anche, si sentono cose prima di noi. quando qualcosa sta succedendo. E credo che è necessario per l'ambiente, perché... gli animali avevano alcuni sensazioni, proprio a leggere in la mente quando li vedete. Quindi, quando gli animali non hanno un dialogo, e... poi... gli animali avevano le stesse cose... gli animali, gli animali, gli animali, gli animali, Quindi, questo è stato planato, molto presto, perché abbiamo deciso che... non vogliamo avere molto dialogo, e... il nostro plan è stato, se non bisogna avere un dialogo, non bisogna avere un dialogo. quindi, questo è sempre quello che stiamo cercando di fare. E, credo, in un modo, che è stato bello, fare la stessa cosa con gli animali. Davvero complimenti perché non è facile far parlare così gli animali. grazie. Grazie mille. Uscendo dal film, qual è il futuro del cinema secondo te? non è sicuro, ma... non è sicuro, ma... non è sicuro, ma... non è sicuro, non è sicuro, ma... non è sicuro, non è sicuro, come sarà in futuro, in casa, o... nel nostro computer. Quindi, spero che... che continueremo a andare al cinema. l'ultimo film che hai visto al cinema che ti ha colpito? Uh... 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 Yeah, è stato Memoria, Pitcha Punk. È stato un film ecco. È stato un film ecco. ho davvero amato. E... è stato un film che... non posso mettere in ogni genere, o... non lo so, non lo so, ma... è stato un film ecco, mesmerizzato. Allora, non lo so, non lo so, non lo so... non lo so... che la teoria? Allora, non lo so! Allora, Non lo so, non lo so... Grazie a tutti.